Ciao a tutti e bentornati su Divulgaldo. Oggi parliamo dei Longobardi, che è un popolo che a me ha sempre affascinato, fin da quando ero bambino, pensate. Da quando ho iniziato a studiare storia mi sono sempre sembrati una popolazione misteriosa, perché non si hanno notizie di loro, non si hanno notizie storiche e dettagliate, non si hanno tante fonti. Poi è come se fossero emersi dalla storia così, quasi di colpo, inaspettati, arrivano in Italia, cambiano totalmente la nostra storia e noi neanche quasi li avevamo notati prima, senza alcun preavviso. Quindi sono un popolo, abbiamo detto i Longobardi, sì, sono un popolo, ma non nella misura che intendiamo noi. Perché i Longobardi si sono costituiti come popolo da una confederazione di altri popoli, di altre tribù minori che si sono unite e hanno deciso, ovviamente non con un processo immediato, sono processi che durano anche un secolo o anche più, con le generazioni ovviamente, però hanno scelto questo nome Longobardi. E c'è una motivazione per questa cosa, c'è una leggenda che è dietro all'origine del popolo dei Longobardi, perché i Longobardi hanno bisogno di queste leggende. Chiaramente un popolo che si è appena formato ha bisogno di raccontarsi la sua storia, ha bisogno di inventare un'origine comune, che è quella scandinava, e un'origine del loro nome e del loro popolo. Ma prima di andare avanti, ricordiamoci il momento Marchetta per i nostri fan. Hai ragione, perché se questi contenuti ti piacciono, ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale YouTube di Divulgaldo. Via. Non sei iscritto al canale, puoi andartene. Quindi dicevamo, l'origine del popolo Longobardo. L'origine è una bellissima leggenda. Freya e Odino sono a letto insieme, come di solito fanno, ovviamente, sono marito e moglie, ma Freya il giorno prima ha ricevuto una preghiera dal popolo dei Longobardi. Il popolo dei Longobardi l'ha implorata di aiutarli a vincere una guerra, a farli sembrare più potenti, a dargli la vittoria. E Freya ha risposto, fate sì che le vostre donne, domani all'alba, scendano in campo con voi e abbiano i capelli legati davanti al volto, così che pare che abbiano le barbe. I Longobardi eseguono. Freya fa sedere e dormire l'amato Odino dalla parte dove sorge il sole. E al mattino il sole si leva e vede un esercito schierato, molto numeroso, e Odino lo benedice perché è contento di questo felice esercito così numeroso. E allora i Longobardi sono un popolo eletto dagli dèi. Sono un popolo che ancora prima della loro conversione al cristianesimo sa di essere eletto, sa di avere qualcosa di speciale. Perché sì, poi i Longobardi abbandonano questa religione politeista, che poi è una delle tipiche religioni non rene, ovviamente, e passa al cristianesimo, il cristianesimo non cattolico, il cristianesimo ariano, ovviamente. Fino ai primi anni del Seicento, quindi del VII secolo d.C., saranno ariani e non cattolici. Però attenzione, perché quando diciamo che i Longobardi erano cristiani, parliamo sempre dello strato dirigente della popolazione. Parliamo dei nobili, dei più istruiti, dei più notabili. Perché la popolazione ancora, fino alla metà del VII secolo d.C., alcuni saranno pagani. E quindi i Longobardi, si dice, arrivano in Italia. Arrivano in Italia nel 568, guidati da re al boino. Ma che figura era il re per i Longobardi? Perché è importante un attimo definire questa figura. Perché i Longobardi non si affidavano a un capo carismatico, non si affidavano a un capo scelto dal sangue, ovvero scelto dalla discendenza o dal popolo, ancora peggio. No, i Longobardi avevano la fiducia nel loro capo militare. Il re serviva per governare tre cose. Una lancia, un cavallo e un esercito. Eh sì, la lancia è il segno per eccellenza della regalità dei Longobardi. È il segno che fa un re. Ancora più della corona, eh. Ancora più della corona e dell'oro, a cui i Longobardi sono legati estremamente. I Longobardi adorano lavorare l'oro e raffinare l'oro. Quindi i Longobardi sono guidati da questo re, Albuino, che li conduce in Italia. Ma che Italia trovano? Uno si aspetta magari un'Italia prospera, un'Italia baciata dal sole, baciata dai campi coltivati, dai frutti, dai pascoli rigogliosi. No. No, l'Italia è distrutta. La popolazione è ridotta alla fame. C'è stata una guerra da 19 anni. La guerra tra i greci, la greco-gotica, no? Quindi tra i bizantini e i goti. La guerra è finita, ovviamente, quando arrivano i Longobardi, ma c'è ancora la peste. E la popolazione è ridotta a una povertà miserabile, quasi. Terribile. Ci sono delle cronache addirittura che ci raccontano come gli italici ridotti alla fame strappassero le erbacce da per terra e se ne cibassero. Ad ogni modo, Albuino, quindi, potete capire, non incontra tanta resistenza a entrare in Italia. Arriva festoso a Pavia e a Pavia celebra un banchetto perché ormai è finalmente insediato in Italia e finalmente ha dato una casa al suo popolo. Ma qui commette un errore, Albuino. Perché durante questo banchetto costringe la moglie Rosmunda a bere da un teschio. Ma quello non è un teschio come tutti. Già il fatto che bevessero dai teschi, uno potrebbe dire, poi non li dobbiamo chiamare barbari. Sì, ma noi non possiamo assolutamente giudicare la storia. Noi non possiamo assolutamente giudicare una popolazione. Perché quello era il teschio del padre di Rosmunda che era stato sconfitto da Albuino ed era usanza dei germanici, di queste popolazioni germaniche, bere dal teschio dell'ucciso come segno di potenza. Albuino qua, invece, interpreta questo teschio come simbolo dell'unione matrimoniale per rafforzare l'unione matrimoniale tra lui e Rosmunda. Quindi di conseguenza fa bere Rosmunda dal calice dove c'è il teschio di suo padre. Rosmunda non dimentica. È vendicativa. Rosmunda fa avvelenare Albuino, che muore. Non ci poteva essere conseguenza più nefasta per i Longobardi. Perché poi nel 572, quando muore Albuino, non viene scelto un altro re. Cioè, o meglio, viene scelto, ma è debole, Clefi. Dura pochissimo. E c'è una guerra civile devastante presso il popolo dei Longobardi. C'è questo decennio di interregno in cui i Longobardi veramente forse assumono delle movenze barbariche all'interno del territorio perché vengono uccisi i ricchi senatori romani, vengono uccisi appunto i più grandi proprietari terrieri, ma non la popolazione, ovviamente. La popolazione magari ne risente in poca misura. Ma la popolazione civile poco importa chi governa, poco importa chi è al vertice del potere. Tanto comunque, pensate, prima dell'arrivo dei Longobardi già soffriva la fame, già aveva avuto la peste, già aveva avuto la guerra. Cosa altro di peggio poteva avere? Sono solo i ricchi che fanno le spese di questa situazione. Allora, in modo, come tutti i periodi di crisi, ovviamente è una fine. Abbiamo detto dieci anni. C'è un uomo che riesce a trascinare i Longobardi via dal periodo di crisi. Il suo nome è Autari. Autari decide che è traumatizzato, ovviamente, dagli decenni dell'interregno, è traumatizzato dalla fine che ha fatto suo padre Clefi. E allora decide che è arrivato il momento che i re Longobardi abbiano una posizione più forte, più centrale, più preminente rispetto agli altri duchi e capi militari. Decide di istituire il fisco regio. Che cos'è il fisco regio? È una cosa molto semplice. Semplicemente, adesso, la corona Longobarda ha dei possedimenti terrieri. Anche foreste, anche boschi. Come abbiamo parlato nel video di boschi. Boschi sono centrali nell'economia del Medioevo. E sono centrali anche per i Longobardi, perché i Longobardi se ne appropriano. Quindi, Autari adesso ha una base più solida. Il re non ha più bisogno soltanto della sua lancia, del suo cavallo e del suo esercito ha bisogno anche delle terre. Quindi, che tipo di società era quella Longobarda? Era una società guerriera, ovviamente. Non era una società di letterati né di contadini, era una società di guerrieri e anche pastori, ovviamente agricoltori in misura minore. Però sono una società guerriera. Pensate che per il valore di un uomo, il valore quindi giuridico e appunto il valore della sua libertà è dato dalla sua partecipazione e dalla sua fedeltà all'esercito. Un uomo è libero se è un guerriero e quindi viene detto Aremanno. Aremanno sono appunto gli uomini liberi. Sotto di loro troviamo questa classe molto particolare gli Aldi. Gli Aldi sono dei piccoli proprietari terrieri parzialmente liberi che sì hanno delle libertà, hanno dei diritti ma chiaramente non sono alla pari degli Arimanni. Sotto di loro poi troviamo i semi liberi e gli schiavi. Gli schiavi non hanno alcun valore nella società Longobarda come uomini liberi hanno semplicemente valore come quasi un oggetto un capo di bestiane insomma una società che ha anche appunto questi serviti questi schiavi. Quando noi leggiamo ad esempio la storiografia dell'Ottocento quando leggiamo ecco il Manzoni il Manzoni quando leggiamo la Delchi del Manzoni una bellissima tragedia teatrale in questa tragedia teatrale Manzoni ci dipinge i Longobardi come lontani dalla popolazione italica come oppressori come barbari saccheggiatori possiamo dire tranquillamente che tutto ciò non è vero Manzoni leggeva la storia Longobarda a modo suo Manzoni voleva simboleggiare con i Longobardi gli oppressori austriaci e gli italici oppressi ovviamente erano gli italiani che dovevano intraprendere la guerra risorgimentale noi sappiamo che non è così noi sappiamo che i Longobardi col passare del tempo ovviamente si integrano abbandonano l'arianesimo e diventano cattolici in primis ma come ogni società miticcia come ogni società in cui c'è un incontro di popolazioni i Longobardi hanno assorbito delle caratteristiche della popolazione latina e i latini e i bizantini e tutti insomma gli italici hanno assorbito delle caratteristiche Longobarde che poi noi ci porteremo dietro per tutta la durata della nostra storia molti paesi hanno nomi Longobardi hanno preso il suffisso ad esempio Bardonecchia Bardonecchia viene da Longobardi Bard ecco questa radice e soprattutto i Longobardi hanno anche lasciato molte parole alla lingua italiana la gamba la zuffa la trappola l'elmo queste parole non sono di origine latina sono etimi di origine Longobarda sono e soprattutto anche il nome con cui gli italiani erano detti all'estero l'abbiamo detto anche nel video dei barbari abbiamo detto che nell'alto medioevo per tutto il basso medioevo poi gli italiani all'estero saranno detti Lombardi capite quindi come questa popolazione è fondamentale per delineare la nostra civiltà ma ancora una cosa che è un fondamento della nostra civiltà la pizza questa è una curiosità molto così un aneddoto prendetelo così però è molto significativo di quanto i Longobardi abbiano fondato la nostra nazionalità durante l'epoca romana e anche greca c'era questo cerchio di pasta di grano che veniva chiamato pita ecco la pita è l'antenato della pizza ma i Longobardi latino riuscivano a dirla quindi dicevano pizza ovviamente non aveva il pomodoro perché è stato portato con la scoperta dell'America ma è nata la parola pizza da qui da una storpiatura linguistica dei Longobardi che non riuscivano a dire pizza ma i Longobardi cosa fanno poi dopo appunto dopo Autari dopo che inizia il settimo secolo e il seicento dopo Cristo che cosa che come si muovono all'interno della penisola italica si espandono ovviamente non sono più relegati all'Italia cento settentrionale alla Lombardia al Tri alla zona triestina quindi il filo di Venezia Giulia Genova con la Liguria e tutto però arrivano anche fino a sud la Toscana e addirittura la Puglia la Basilicata e la Campania diventano territorio Longobardo e pensate che addirittura qui in Campania a Benevento ci sarà l'ultimo regno l'ultimo Ducato Longobardo che anche dopo la conquista dei Franchi resisterà fino addirittura al XII secolo quasi fino ai primi decenni del XII secolo XI-XII secolo durerà tantissimo il Ducato di Benevento e i Longobardi quindi abbiamo detto si integrano nella società italica e si integrano ancora di più il passo definitivo che compiono per integrarsi ancora di più nella società italica è decidere di mettere delle loro leggi per iscritto i Longobardi a un certo punto nel 643 con il re Rotari scrivono un corpus di leggi e la prima cosa stupefacente di questo corpus di leggi per farvi capire quanto è scoinvolgente e quanto la distanza storica a volte ci possa dare un senso di straneamento è che provate a pensare nella nostra società la vita umana non è stimabile in termini economici si dice molte volte no la vita umana non ha prezzo la vita umana ha un valore inestimabile e invece nell'editto di Rotary sì nell'editto di Rotary ogni uomo ha un valore ha il suo vergeld che per i Longobardi vergeld vuol dire uomo ver vuol dire uomo geld gilt vuol dire oro quindi oro uomo al prezzo dell'uomo noi nell'editto di Rotary non leggiamo vergelt leggiamo guidrigildus perché poi ci possiamo immaginare tante scenette comiche in cui i Longobardi con degli scribani latini dovevano correggere i loro termini inserirli appunto in latino in questo editto di Rotary allora a un certo punto il Longobardo dice qui bisogna scrivere vergelt e magari lo scribano latino gli dice scusa vergelt cosa significa ma vuol dire questo valore dell'uomo ma io non saprei come tradurlo vabbè scrivo guidrigildus anche faida che è un termine che è entrato nell'uso comune viene dall'editto di Rotary cos'è la faida? è il meccanismo della vendetta perché ogni uomo ha il diritto di vendicare l'uccisione di un parente ci sono anche molte leggi buffe all'interno dell'editto di Rotary ci sono leggi in cui per quantificare il danno che un uomo ha subito durante una zuffa per quantificare il valore e quindi il risarcimento che un uomo deve a un altro bisogna prendere il pezzo del cranio che è stato fatto saltare dalla testa dell'offeso e vedere quanto rumore fa se cade dal tetto di una casa rimbalzando su uno scudo di legno metodi approssimativi però come ho detto prima noi non possiamo permetterci di giudicare la storia noi non possiamo permetterci di dare giudizi di valore la società era questa i mezzi che avevano a disposizione erano questi e quindi la società andava avanti in questo modo e anche il regno dei Longobardi va avanti il regno dei Longobardi quindi si adatta crea una sua economia crea un suo rapporto con la chiesa a volte conflittuale col papa e a volte molto conciliante col cristianesimo in generale perché i Longobardi fonderanno molti monasteri che ancora esistono come quello di Nonantola ad esempio quello di Nonantola è un monastero di fondazione Longobarda a cui i re Longobardi erano molto affezionati se vi ricordate anche Arduino è molto affezionato a un monastero questa cosa che i re italici sono affezionati ai monasteri è una cosa che torna nei secoli il monastero è un luogo fidato dove il re poteva anche rifugiarsi e trovare appoggio e arriva il setti l'ottavo secolo l'ottavo secolo purtroppo per i Longobardi è decisivo è terribile perché i Longobardi sono tracotanti re Iutprando invade i territori del Lazio e il papa lo prega e lo costringe poi a restituirli i sutri quindi viene diciamo un piccolo patto con la chiesa ma la sete di conquiste di Iutprando non si ferma e qua Iutprando commetterà un errore che sarà fatale ai suoi successori ai suoi due successori e al suo popolo tutto perché Iutprando invaderà Venna e poi questo susciterà insomma Iutprando con Astolfo che poi sarà re Astolfo dovrà vedersela niente proprio di meno che col padre di Carlo Magno il padre di Carlo Magno Pipino arriverà su invito del papa in Italia e sconfiggerà per la prima volta il re Astolfo quindi i Longobardi sono già indeboliti ma non si arrendono continuano a minacciare il papa loro vogliono ancora conquistare Roma sono decisi a prendersi il controllo totale della penisola italiana ecco l'ultimo re Desiderio Desiderio cerca ha capito che il nemico principale del suo regno sono i franchi sono i franchi di Carlo Magno cerca di inviargli una sua figlia in sposa Manzoni la chiama Desiderata probabilmente in omaggio al padre però noi sappiamo che è un nome inventato da Manzoni nella sua tragedia teatrale bellissima la Delchi e quindi Carlo Magno ripudia la moglie ed è deciso a farla finita una volta per tutte con il re Desiderio Cala in Italia un re di ferro un re molto più potente di tutti i re Longobardi Bardato di ferro assedia Pavia assedia tutte le grandi città e nel 774 conquista il regno d'Italia il regno dei Longobardi Carlo Magno diventa Rex Francorum et Langobardorum ma questa è un'altra storia arrivederci a un'altra storia che è un'altra storia che è un'altra storia Grazie a tutti